Amiche e gentili amici, oggi vi voglio parlare delle dream mask. Io le ho definite così perché sono quelle mascherine che si appoggiano appunto sugli occhi e servono per dormire, cito colazione da Tiffany e Audrey Hepburn e si usano anche sugli aerei quando vogliamo provare a dormire perché comunque c'è troppa luce e che solitamente le compagnie aeree regalano. Ma quelle di cui voglio parlarvi io sono le mascherine che si indossano durante un menage giocoso con il partner. Ve ne ho portata qualcuna, allora questa è di seta, è un pezzo unico, ha il velluto che appoggia sulla parte degli occhi, ovviamente c'è un elastico, è molto colorata ma si può ovviamente accompagnare a una lingerie bluette o a un sottoveste arancione. Poi c'è il nero che il nero è sempre, va su tutto come si suol dire, questa è molto bella, molto diciamo semplice in cotone con una fila di Swarovski, sempre l'elastico e poi ci sono quelle magari un pochino più cheap tipo questa qui che comunque è in seta, è simpatica con la scritta VIP quindi si può tranquillamente anche utilizzare in aereo, ovviamente sempre con l'elastico e la versione in pizzo e questa effettivamente è più intrigante e accattivante. Allora queste mascherine si trovano anche nei negozi di lingerie di un certo tipo, volendo anche nei multistore che vendono sottovesti, calze, collante e nelle boutiche erotiche. I prezzi variano ovviamente perché si parte magari da una cifra molto bassa tipo 10-15 euro fino ad aumentare per quelle più particolari magari che hanno inserti in pelle, Swarovski e ricami. Quindi mi raccomando se volete sognare anche perché chiudendo gli occhi si accentuano molto di più gli altri sensi. Ciao, alla prossima!